Il pressing da parte del Napoli con Rullo, Nex recupera il pallone, dentro, Cavaglio! La Serie A si avvicina con Cavaglio! Napoli in vantaggio, 1-0 e segna sempre lui! Dimenticato. E' giusto tutto questo. Salta Calaio! 3-0 per il Napoli! L'undicesimo gol di Calaio! Un gol bellissimo! Tocca Calaio, grande possibilità, il sinistro e il rete! Calaio! La gente è con lui! Testa il pareggio! Proprio lui Calaio! Calaio si è sbloccato e ha pareggiato! Emanuele Calaio va a festeggiare sotto la curva del Napoli! Gritto nel cuore dei tifosi azzurri! Il rigore fallito, il colpo di grazia! E il passato? Il rigore si gira col sinistro ed è un gran gol quello di Emanuele Calaio! Zero opportunità! Sì, 10 minuti a partire! Il cross di Caparella! Calaio di testa! Rete! Calaio! Un gol fantastico! Di Calaio! Un gol straordinario! Il sedicesimo stagionale per Calaio! Palla dentro! Calaio salta di testa! E Napoli è in vantaggio! Un gol pazzesco quello di Calaio! Il Napoli va! Ma ci si lamenta che non si finalizzi al dovere! Siamo certi che non ci siamo dimenticati di qualcuno! Ma no! Non è mica una prima punta in grado di segnare in serie A! Siamo così sicuri! Siamo così sicuri! Basta!